In gravidanza ci capita spesso di avere delle voglie di dolci particolari. Siccome non possiamo esagerare, dobbiamo stare un po' attenti alle calorie e a non ingrassare, allora cerchiamo di adeguarci facendo dei dolci un po' più leggeri, magari con della frutta che ci possono aiutare sia a toglierci lo sfizio che a rimanere un po' leggeri. Per cui oggi facciamo un gelo di anguria e lo impreziosiamo con qualche goccia di cioccolato e con dei pistacchi tritati. Grazie a tutti! Questo è il nostro gelo d'anguria, fresco, estivo, goloso ma non particolarmente pesante. Grazie a tutti! Grazie a tutti!